In questo video vogliamo presentarti brevemente il modulo VP1 del progetto Active3, ovvero il progetto nell'ambito del quale questo percorso formativo è stato realizzato. È noto come l'attività fisica regolare aiuti a prevenire numerose malattie e contribuisca al benessere psicologico migliorando la qualità della vita della persona. Il progetto Active3 ha realizzato una serie di attività al fine di affrontare le barriere individuali, culturali e ambientali che ossacolano l'inclusione nella pratica motoria. Sono state quindi proposte soluzioni tecnologiche, educative e strumentali, efficaci e sostenibili per rendere accessibile a tutti uno stile di vita attivo. Durante l'età evolutiva la scuola ha il compito di educare verso comportamenti che promuovano una buona salute. L'attività motoria è importante per la crescita del bambino dal punto di vista fisico, comportamentale e relazionale. Tuttavia l'attività fisica a scuola, in palestra o durante la ricreazione può essere causa di esclusione e disagio per un bambino con disabilità. La presenza di barriere di diversa natura causa l'esclusione dei bambini più fragili, dall'ora di educazione motoria. Active3 ha adottato un approccio multidisciplinare che consente ai bambini affetti da disabilità nella scuola primaria di partecipare pienamente all'esperienza dell'attività motoria a scuola. Questo è stato possibile fornendo a sistema scolastico strumenti tecnologici, formativi, spazi attrezzati e metodologie in grado di rimuovere molte barriere e creando un ambiente in cui bambini, insegnanti, genitori e compagni di classe potessero sperimentare e apprendere nuove competenze e strumenti in modo inclusivo. Nel concreto il progetto ha portato alla realizzazione di un ambiente sperimentale presso il polo di Lecco del Politecnico di Milano per la creazione di esperienze motorie inclusive attraverso attrezzature e tecnologie di ultima generazione. Alla realizzazione di ortesi per l'arto inferiore destinata a bambini con disturbi motori e o posturali per consentire e o facilitare lo svolgimento dell'attività ludico-motoria. Allo sviluppo e alla sperimentazione di un programma innovativo di educazione motoria per la scuola primaria con nuovi obiettivi di apprendimento e attività, tecnologie e strumenti per la partecipazione e l'inclusione di tutti i bambini. Alla realizzazione di kit low cost comprensivi di soluzioni tecnologiche e attrezzature favorenti l'inclusione nelle attività motorie e al loro test in tre scuole pilota. Alla creazione di percorsi formativi disponibili on demand, fruibili da insegnanti e genitori, tra i quali quello a cui state per prendere parte. Grazie a tutti.